Per favore, ricorda di iscriverti, attivare le notifiche, lasciare un like e guardare il video fino alla fine. Grazie. Vandanara ha reso pubblica la sua diagnosi di leucemia ricevuta lo scorso luglio in Argentina. La showgirl ha deciso di parlare apertamente del suo coraggio e della sua battaglia in corso partecipando al programma Ballando con le stelle in Italia, sottolineando la sua determinazione e desiderio di mandare un messaggio di forza ai suoi figli. Nonostante il tradimento del marito Mauro Icardi con un'attrice argentina che ha portato a una crisi coniugale, la coppia ha superato le difficoltà e ha rafforzato il loro legame di fronte alla malattia. Durante l'ultima puntata del programma, Vanda ha condiviso quanto il sostegno di Icardi sia stato fondamentale nei momenti più difficili, evidenziando il vero significato dell'amore incondizionato. Vanda continua le sue cure e la sua partecipazione a Ballando con le stelle è un simbolo della sua lotta contro la malattia e della sua invincibilità. Adesso esprimi un messaggio di auguri di pronta guarigione nei commenti a questo video per Vanda e per tutte le persone che stanno affrontando adesso una malattia. Tanti auguri di pronta guarigione, Vanda! Ricordati inoltre di lasciare un like al video e di iscriverti al canale per non perdere le prossime notizie.